ma buongiorno oggi il primo giorno di pausa quindi andiamo a fare un giretto con questo affare andiamo a usare questo vediamo ok e con il drone ciao a dopo ok benzina abbiamo fatta adesso andiamo verso il porto così vi faccio conoscere il porto e poi non lo so vediamo tanto l'isola è veramente molto piccola quindi andiamo a farci un gire a dopo ciao 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 Bene, questo è il porto di Manditiri, dove insieme vado un giro di giovani, trattamenti con le navi e i draghetti che fanno la tratta Pelschiatos, Scopelos e altre destinazioni ed è veramente molto piccolo ma molto 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 bello come avete già visto. Adesso andiamo da qualche parte col drone e ci facciamo un bel giretto dall'alto. Ciao! Bene, dopo questa ampia panoramica sul porto di Manditiri andiamo in direzione hotel a vedere cosa c'è. Vediamo! Bene, siamo andati adesso a Biglia, una spiaggia un po' più carina, sempre di ciotolato però con un bellissimo colore che andiamo a vedere come il drone si convolta. Ok, siamo arrivati, parlo a bassa voce perché qua è conosciuta come la spiaggia Lelax, infatti non si sente praticamente nulla. Quindi per non disturbare andremo in silenzio e poi il drone lo farò volare da più su, così almeno non disturbiamo. Qua è molto bello, guardate! Bene, io mi sono fermato qui. Sì, la spiaggia di Leftogalos è quella lì perché volevo farvi vedere solamente dall'alto questa spiaggia. poi in questi mesi vi farò conoscere spiaggia per spiaggia. Va bene? Andiamo! Voliamo! Vieni a tutti! 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 Bene ragazzi, una piccola sorpresa qui con noi, giro la camera, ecco qua, abbiamo Giuseppe, Giulio e Michele, in ordine sono chef, pizzaiolo e addetto alla pasta, primi piatti, quelli buoni, quelli di italiani, sei napoletano Giulio? Allora perché fai la pizza? Modestissimo, va bene, noi siamo qui a Leftoialos, abbiamo trovato due birre in mare che adesso le berremo, va bene, ciao, salutate ragazzi, ciao Grazie